Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Questo è la voce della notte, Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM, cominciamo! Momento ospite che arriva qui in diretta, Paolo Roberto ce lo sta presentando, vai! Allora, dò con molto piacere il benvenuto di nuovo qui su By Night Roma a Giovanni Cucinella Fatemi, date voce al mio Giovanni Prego, prova il microfono, prova Oh, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Dunque, siamo qui con Giovanni, ci siamo già conosciuti, insomma, per chi ci ascolta sabato sera Eccoci qui oggi per presentare il tuo nuovo album, ecco, diamo spazio quindi al tuo talento L'album si chiama Dillo Tu Sì, appunto, è da poco uscito, da pochi giorni, il mio nuovo album, si intitola La Notte Complice Tra l'altro ne ho qui una copia, adesso la regaleremo a qualcuno Come a qualcuna? Tu mi hai detto che già tu lo sei scaricato legalmente No, 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 io ho due canzoni che mi sono state inviate Ma perché voi musicisti pensate ancora di vendere? No, ma infatti lo regalo Ma quello si fa come penso la collezione Ma scusa Si fa prima Quindi ne fate una trentina di copie Sì, giusto per madre, padre, tio, nonna, nonna Eccolo qua, Giovanni Cucinella Parliamo del nome di questo album, La Notte Complice, perché? Beh, intanto perché siamo a By Night Roma Quindi Bravo, grazie Giovanni, ci piace molto, bravissimo No, La Notte Complice è intanto il primo singolo estratto dall'album Quindi abbiamo dato lo stesso titolo Però al di là di questo La Notte Complice è anche perché i brani li ho scritti praticamente tutti di notte Quindi Sembrava bello intitolarlo così per questo motivo Mi piace, mi piace Di notte lo vieni qui a presentare a By Night Roma Assolututto di notte Tutto di notte Io al giorno dormo, quindi Quanti pezzi ci sono? Sono sette brani Sette brani scritti da me Autobiografici È un progetto molto grande Perché comunque nella produzione è coinvolta la Tinituro Che è un'etichetta discografica molto attenta ai giovani Fabrizio Pausini, il papà di Laura Che ha curato la produzione artistica Poi arangiato da Federico Landini Che è un grandissimo arangiatore a livello internazionale Tra l'altro ne approfitto perché c'è il batterista dell'album Che è Omar Campitelli Faremmo prima a dire dove non ha suonato Perché stiamo parlando di un grandissimo nome della musica Ottimo, ottimo Poi ci sono altri musicisti Pape Curioli, pianista di Giovanotti Insomma, tantissime collaborazioni È da comprare e da ascoltare Da ascoltare Io posso garantire che merita però Per dare una prova anche ai nostri ascoltatori Diamo un piccolo ascolto Ok, il pezzo che faremo sentire è? La notte complice, il singolo appunto Che la notte porta consiglio Stanotte io e te Scopriamo la vita insieme Sarà semplice Avremo la notte complice Di noi Adesso dimmi che Tu mi vuoi Adesso dimmi che Resterai Per sempre con me Che portati musicisti Che ancora non si esibiscono Ma poi arriveranno nel contest dal vivo Giusto? Sì, sì, assolutamente Tra l'altro ne approfitto anche per dire Che domenica prossima Alle ore 18 Saremo alla FNAC di Porta di Roma Per fare la presentazione dell'album Dove faremo un'esecuzione dal vivo Due chitarre e percussioni Un pianoforte Insomma, una cosa molto particolare per l'occasione Per chiunque dei presenti E gli ascoltatori volesse dire Domenica ore 18 La FNAC al centro commerciale Porta di Roma Io ci sarò, guarda Io vengo volentieri Tu sei invitato Tutti quanti Usarate voi Ma pensa Vanno alla FNAC dove vanno i grandi Che so Piaggiattonacci, Velvet Facciamo le cose Giovanni Cucinelli Devo dire che secondo me È orecchiabile È bravissimo Allora, ultima cosa Ce n'è un altro di singolo da sentire? No Ah sì? Sì, sì, sì Mi sa che abbiamo preparato un altro contributo Hai preparato un altro singolo Di Giovanni Cucinelli Allora, lo facciamo sentire Dopodiché diamo i contatti Di Giovanni Cucinelli Così a meno la gente che ti sente Ci può trovare su internet Facciamo sentire negli occhi di un'altra Negli occhi di un'altra Sentiamolo Inutile cercare di capire che cosa ho sbagliato Quando è stato che ti ho persa Ti è mai capitato che un pensiero ti attraversa E ti parla di me Di me Hai già raccontato quelle storie che inventavo Ridevi Che è nella casta È una storia Guarda Io sono di Palermo Venendo a scuola con me Non mi ho mai svuotato Quel mondo che avevo inventato per te Adesso sei tu Amore Decidi e fai tutto quello che vuoi Io resto qui E cerco Ma guardo negli occhi di realtà Non trovo te Ti cerco ogni notte Un sogno Ma io sto con te Oh ragazzi al T-Joy c'è una che la canta Non la so nemmeno io Ma è tua sorella è No guarda Noi siamo di Palermo Ah minchia di Palermo Ma per caso siamo incontrati qui Andavamo a scuola insieme Vai Tipo caramba Comunque devo dire Pezzi molto ricchiabili mi piacciono Diamo i contatti Assolutamente Contatti per Giovanni Cucinella Giovanni Cucinella.com è il sito ufficiale Facebook.com slash Giovanni Cucinella Officiale il Facebook Dove scrivo sempre Aggiorno tutto quanto Pure ho scritto pure di stasera Due minuti prima di uscire da casa Quindi Hai fatto bene Assolutamente Grazie Giovanni Cucinella Vi ringrazio Buona serata a tutti Tutto tutto Buona serata Ciao